buongiorno buongiorno scusate no intanto hai visto santa giornata che il signore vi me lo dica hai visto i miei pantaloni a palazzo nuovi guardala guarda guarda in crepe di seta atti stati sapete dove sulle ramblas a barcelona non erano mie però l'ho vista era mia moglie mia bellissima a palazzo a forza di parlare di pantaloni a palazzo così buongiorno buongiorno a tutti grazie benvenuti bentornati in questa nuova puntata folle anche oggi leggete il nostro vedete eccolo qua no oggi offrirò a tessuti a più 50 per cento costano i 5 90 più 50 mai così ma no va bene anche oggi conteniamo con le nostre dico sempre che l'ultima l'ultima invece poi salta fuori sempre tessuti particolari mi dispiace non proporverli anche perché voi non meritate vi dico grazie ringrazio anche tutti i nuovi iscritti che siete numerosi ringrazio anche tutti anche tutti e per la vicinanza e la fratellanza che tutti veste la nostra azienda sapete abbiamo perso il nuovo punto vendita lunedì quindi siamo a Rovigo in corso del popolo 421 no ecco abbiamo perso il nostro negozio storico però in tempi record abbiamo dopo aver perso il negozio con documento e abbiamo trovato una nuova struttura e l'abbiamo adeguata con gli impianti con tutte quante tecnologie con eredamenti insomma a tempo di record va bene però ce l'abbiamo fatta adesso un po un po di relax mentale va bene chi siamo noi noi siamo lo scampo dei fratelli Antonioli con due punti meta uno a destra dove stiamo tramettendo questa proposta di vendita di tessuti online in via arteste 3 baraccì sulla statale che va da monselice ad est siamo c'è la vicinanza del centro di est e il secondo punto vendita è Rovigo in corso del popolo 421 bellissimo tanti ci chiedono tanti ci chiedono cosa come acquistare come acquistare bravissimo abbiamo abbiamo fatto stiamo continuando in questo mese di agosto con proposte folli di 5 euro 90 di 2 metri di tessuto quindi voi potete acquistare anche due metri e mezzo due venti due trenta tre metri quattro metri dici metri ma non un metro e novanta facciamo un posto il minimo di due metri e 5 euro e 90 perché 5 euro e 90 perché mi hanno fatto alcuni mesi comprenso standard presentando dalle lane alle sete a tutto ogni ben di dio che abbiamo presentato tutto il 5 euro e 90 sono rimaste delle rimanenze di tessuto ho detto non le voglio portare ancora per il prossimo anno perché sono tante cose estive sto ancora presentando cose estive che però ho delle viscose anche oggi che possono andare sicuramente bene per il periodo autunale anche tessuti anche che vanno bene autunno e anche inverno anche oggi e quindi questo per il mio modo di ringraziare l'affetto e la stima l'affetto che ci avete supportato in questi mesi terribili che sono stati per noi la perdita di un negozio che aveva 40 anni con tutti i tessuti con tutti i danni che abbiamo subito va bene quindi ho bisogno di spazi ci sono ridotti spazi quindi ho bisogno di eliminare i tessuti e chi li possono eliminare cioè in modo di eliminare nel senso buono propone un apprezzo ultra vantaggioso alla fine però io avrò una novità sugli ultimi 5-6 tessuti che neanche il cameraman lo sa è vero sto giorno è vero non devi sapere tutto quello le mie matità tu non devi sapere quindi come si compra si compra allora cosa fai intanto guardate questo è il nostro numero di telefono il 3 8 8 1 6 2 1 6 2 6 6 9 7 va bene per non confondersi con il 3 3 8 3 3 8 8 va bene abbiamo visto anche alcuni clienti anche che ci scrivono sia sul nostro telefono ecco preferiamo che ci messaggiate così su whatsapp sono sul 3 8 8 perché poi ci rimane la traccia e facciamo e poi noi seguiremo da oggi al sabato mattina e oltre mezzogiorno quindi per non molto chiudiamo i negozi trasmettiamo più oltre mezzogiorno trasmettiamo più o meno dalle tre e mezza pomeriggio e poi la trovate su tutti i canali facebook e specialmente youtube ecco ci mandate un messaggio su questo numero a whatsapp ecco youtube perché non li seguo scusate perché poi magari ho visto anche in questi mesi qualcuno dice ma non mi avete mai risposto magari non abbiamo trovato i messaggi sul nostro numero di telefono abbiamo trovato i messaggi alcuni clienti va bene quindi portate pazienza potete ordinare minimo due metri di tessuto per 5 ore al mandato tutti i tessuti che volete va bene anche oggi avrò tessuti che avrò dai 5 6 metri fino ai 50 metri abbondanti no quindi capite ho delle chicche 5 6 metri il primo cliente il primo cliente il primo due clienti sarà suo diciamo poi perché noi seguiamo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste non facciamo preferenze anche se abbiamo clienti mai storici amicissimi però per rispetto di tutti ecco noi operiamo così va bene poi da lunedì pomeriggio la nostra sabrina avrà già tutti i fogli che ho già scaricato penso domani pomeriggio domani notte o lunedì mattina quindi lei avrà tutti i fogli in ordine cronologica e seguirà i vostri ordini quindi non arrabbiatevi se magari già alla sera questa sera dopo dalle 3 e mezza verso 6 e mezza 7 alcuni articoli perché se già avete tanti hanno imparato subito ci mandano ecco verso dopo 3 4 ore alcuni articoli sono già già oriti quindi non arrabbiatevi ecco va bene va bene questa preparazione le nostre spese le nostre spese ecco i costi non sono compresi delle spese a disposizione che partono da 8,90 euro fino a 2 kg di peso dell'ordinato vostro ogni chilo in più costa 1 euro escluso le isole che hanno un costo 2,50 euro in più le isole o i luoghi remoti beati coloro che abitano mi c'è nei luoghi remoti beati loro va bene ok partiamo ho il collo ho il metro benissimo dai cominciamo cominciamo con la prova ecco giro dei numeri quindi voi fate lo screenshot oppure tanti fanno lo screenshot oppure c'è un messaggio visto il tessuto in ipotesi 140 mi prenoto mettete i metri che volete in modo di mettere bene partiamo con una fantasia fantasia questa è una fantasia è in viscosa è un fiocco di viscosa fantastica morbidissima intanto hai inquadrato tu il numero si guardate la morbidezza e avvicinati col tuo bel telefonino a guardare proprio la mia bella bignocamera professionale da cinema no qua qua è tutto un cinema qua siamo tutti matti è un circo più che un cinema qua va bene ok avete visto la fantasia è stupenda per qualsiasi vestito in viscosa in viscosa va bene ok la proposta ora 140 andiamo veloce visto tutto di nuovo perfetto 140 in viscosa perfetto poi la proposta è 141 questa è una cosa incredibile in quadro il numero lo screenshot questo per chi ha vent'anni come me per gambe due braccia no ecco questa invece è una tela battista leggerissima in puro cotone è un velo è un velo è un velo guardate che fantasia che fantasia si può dire etnica si può dire quella parola etnica si ma sai cosa intanto è una stampa digitale solo la stampa che costa una follia guardate io ho vissuto gli anni 60 70 gli anni 70 e c'era era era la moda che si acquistavano le magliette al mercato e poi con gli elastici no si facevano i nudini si facevano i nudini si facevano i nudini ecco e poi si inzuppava sulle su una su un recipiente si no anche quei colori con tutto e lì e questi venivano a fare questi però erano monocolore invece qui vedete che varietà di colore era bellissimo anche io ho portato le magliette hippie hippie era il tempo di 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 busta bravo tutte queste magliette qua io ero un ragazzino ma ho viste vissuti ascoltate le storie le canzoni bellissime ok vado stupenda cosa va anche camicie da uomo è freschissima questa anche specialmente ecco se avete fidanzati mariti cugini fratelli nonni si ecco fatemi una bella camicia il nonno e si dice bello l'ho avuto anch'io anch'io sono nonno l'ho avuto anch'io da giovane e questo il nonno andrà al bar o alle poste no tutto questo bella camicia no grande vai poi Sabrina vieni qua un secondo perché lei è l'aspertise di certe presento questa viscosa con questa fantasia come si chiama questo personaggio non capisco Stiz non so chi sia però a me mi piace no dai che lo so non sai chi sia perché porti poco i tuoi nipotini al cinema cavolo quando avrà l'età per stare bene ma dura poco un film non avrete mezzo un film ma te lo fermate William un'ora e mezza al cinema va al posto della mascarina con la pila vedete simpaticissima se avete dei nipotini se avete dei ragazzi giovani fatti una bella camicia e vi diranno grazie mamma grazie nonna sei forte ma io adesso che ho 18 anni per grande io me la farei subito anche a te va bene perché si vede che hai ancora no io ero Rittintin Furia Zorro no no ma anche sulla tv Diabolique Alan Ford Intrepido si guardava sempre bello va bene vado dai poco dai dai stupendo vero una camicia per tutte le stagioni se anche c'è un caldo fuori miseria perfetto poi oh qui ti voglio la proposta numero 143 guardate viscosa sempre pura viscosa guardate ha inquadrato il numero eh guardate è stupenda per fare camicia anche da uomo qua veramente da uomo bellissimo uomo donna e guardate cosa intanto guardate quanti colori ha stampa digitale con 10 colori stampa digitale 10 colori quindi non scherzi solo se stampa costa un botto ha una qualità eccelsa una qualità guardate cosa si può fare con questo tessuto no me lo sono fatto fare per me wow pantaloni a palazzo vedete guarda oh miseria vedete leggeri ce l'ha fatto l'atelier Nicoletta ce l'ha fatto ha lavorato tutto questa notte per fare vedete perché ero indeciso se fra questi pantaloni o sono questi però ho detto la maglietta nera va bene anche qua sta va bene sta va bene belli vedete cosa si può fare camice e anche potete fare qualsiasi vestito senza maniche con maniche qualsiasi cosa è stupendo di qualità ve lo posso assicurare non vedo l'ora questa sera andare fuori con i miei amici con i miei pantaloni a palazzo di più ancora 143 143 sabrina porti via un po' di cose per il cielo poi questa è una cosa incredibile è da luglio che dico sempre la presento la presento invece poi la prossima volta la prossima volta questa è la proposta il numero 144 guardate intanto questa è una tela di si può dire neanche di è un puro cotone sembra un sifo guardate la trasparenza intanto col mio più 50% vedete guardate guardate che follia che oggi ho io però oggi guardate non solo lì non tiro via niente inquadra questa inquadra il prossimo numero il numero 150 145 il numero sarà staccato stai sul pezzo guardate scusate è la stessa fantasia con due tipologie di tessuto puro cotone tutti e due vedete potete fare un pantaloncino una gonna quello che volete è una camicia freschissima è vero o no? acquistate a Como sono importanti collezioni queste qua acquistate a Como sono importanti cioè introvabile è vero o no? stessa fantasia stampa digitale bellissima sono due tipologie di tessuto sempre si si sempre quanto minimo al taglio minimo al taglio di 2 metri è 5,90 di 2 metri minimo al taglio facciamo una contesi facciamo perché io non sono un genio ma se sei studiato tu sei dottore commercialista io non sono una laurea di economia dai dai al gioco per favore 2 più 2 2 più 2 7 a un dottore commercialista 7 e mezzo 7 e mezzo dai allora 2 metri di questa più 2 metri di questa fa 11,80 euro volendo sì ok se non prende 4 metri 4 metri fa ah non lo so 22,80 23,80 23,80 va bene grazie è stupendo o no sono opere d'arte qual è il problema che non ho è una euro 18 metri per questo le ho acquistate le presento le presento le ho acquistate veramente quando ho presentato anche le sete ho presentato di questa mezzo qua va bene vado altra viscosa stupenda altra anche questa me la sono dimenticata la dico sempre la prossima volta stampa digitale guardate che fantasia ha questa ha questa viscosa e guardate che tinte ecco quando faccio queste offerte adesso non faccio più adesso gli abbinamenti cerco di andare come si sul pezzo veramente qui si acquista qualità è freschissima per qualsiasi capo guardate anche un capitano qua è stupendo un camicione una camicia un paio di pantaloni un paio di pantaloni guarda a palazzo è stupenda si sta benissimo si sta lanciate la fate il professor Marietti che moglie che fidanzata che ha le mani d'oro si sta benissimo scusami posso dire una cosa dopo che in settimana siamo andati su una provincia molto famosa e i ragazzi più belli avevano le calze bianche con i sandi bellissimo si le calze bianche con i sandi con le righette no le calze le due righette e vedi che tu non sei la moda io so la moda le due righette a fare un pantalone così per un uomo si può fare tranquillamente con i ciabattini e il sandalino con i calzini a due righette stupendo bello grazie vado sempre che abbiamo chi ci ascolta senza audio 146 grazie poi ok grazie la proposta è 147 sempre sempre la proposta è 147 questa invece è un puro cotone anche questa è una fantasia imperiale bellissima guardate il face è bello o no per fare qualsiasi capo no no stampa digitale ho tutte le cose stampe digitale stupende stampe multicolor stampe digitale vedete è incredibile tessuti da minimo dai 15-20 euro al metro per qualsiasi capo però oggi oppure per i prossimi giorni ad eliminazione della merce di 2 metri per 5,90 vado vado no è stupendo dai ha una tela bellissima di puro cotone vado poi la proposta numero 148 altro cotone di scosa eccolo qua tessuto doppio abbassamento guardate che ecco qua a fare un caftano con l'abbassamento sotto è imperiale guardate ve lo metto già a modi di caftano scusami voglio il numero c'era il numero 148 vedete questa fantasia etnica con abbassamento questo abbinamento questo mix di varianti di colori incredibili potete fare in questo modo te la posso girare anche guardate o così favoloso favolosa qualità favolosa non comprate neanche la podera generalmente vado dai via non ha bisogno di tante parole di queste qualità proposta 149 altra viscosa altra viscosa ecco i famosi pua che vanno bene per qualsiasi moda anche gli anni tipo anni 60 bellissima ogni tanto c'è un ritorno però cosa anche questa mattina quando abbiamo preparato ho preparato il banco con tutti questi tessuti due sarti mi hanno detto mia perché questo è un mastra questo non va mai giù di moda e poi anche la qualità è una qualità anche libera stupenda due sarti li hanno presi 4 metri ciascuna a proposito numero 149 vedete eh stupendo vado no scusa bellissimo bellissimo vado via dai via 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 ok poi se avete bisogno invece di un po' più di dettagli la nostra Sabrina vi invia o foto o video tranquille va bene adesso scusate anche perché è una media di di tessuti c'è un caldo abbiamo i condensatori a palla come si dice però sono quasi insufficienti va bene poi la proposta numero 150 altra viscosa altra viscosa guardate con questo potete farlo in tutti e due i modi con la il po' no a parte è lo stesso sia verticale che orizzontale veramente così questo è un il fondo un dopo bianco non è bianchissimo dopo prima una tinta naturale ma bellissima molto delicata sempre stampa digitale guardate la morbidezza camicie camicione quello che volete poi proposta numero 151 questo invece è un raso di viscosa questo è un raso di viscosa altra volta Federico si è innamorato di questo tessuto mi sono rimasti un po' di metri non voglio più portarlo 650 vis sì 650 vis perché prima ho saltato un numero quindi adesso mi sono accordo che era corto di numeri guardate questo disegno che sembra quasi pagliate vere vero ha una qualità ha un rasetto stupendo di qualità e sembra quasi bisogna proprio che vengono vicino per toccare per vedere no sono stampate quindi ha una stampa digitale imperiale ha una moltitudine di colori incredibili minimo 20 colori questo minimo quindi vuol dire 20 passati costa un botto questo tessuto costava però ho avuto la fortuna ho degli amici che mi fanno veramente acquistare cose meravigliose per voi per voi sembra non bene sembra non bene sembra non bene bisogna solo toccare per dire no non è possibile dove arriva il genio italiano dove arriva ok la proposta numero 151 si sta con qualsiasi 150 bis 150 bis scusate 150 bis è buono che sia quello va bene invece questo qua è il 151 oh crepsifon guardate che intanto che stampa sempre stampa digitale sembra un quadro sembra un quadro da quanto bello è da fare io fare qualsiasi capo pantaloni pantaloni ah buongiorno signora ah guardate ah palazzo pantaloni a palazzo guardate con una bella short sotto con una bella short fate camicina e camicioni e caffettani semisie stupendo sempre 5,90 per un taglio minimo di 2 metri va bene voglio far solo notare che ha due disegni no 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 un disegno forte si sovrapposto sovrapposto si si sovrapposto grazie questo è il genio questo è il genio del design italiano cioè potete girare il mondo voi ma lo trovate da nessuna parte una cosa del genere solo noi qua e da noi qui a dove stiamo adesso ad est no solo da noi va bene anche per i clienti di Rovigo loro hanno un range che arrivano di che alla fine a Bologna se qualcuno appunto possiamo sicuramente come facciamo abitualmente allunghiamo i tessuti ai clienti direttamente sui negozi di Rovigo per i clienti locali senza fare le spese di spedizione va bene vado via è stupendo o no è incredibile è elegantissimo anche sapete andare a cosa a una cerimonia andate a un matrimonio vi mettono in prima fila il fotografo vieni vieni qua signora che è bellissima va bene vado vado eccolo qua poi questo è una new entry ecco anche per tutti quelli clienti che magari non hanno acquistato in passato e vogliono qualcosa di nuovo e anche per loro oppure hanno già a casa tantissimi nostri tessuti e che li ringrazio di cuore questo è un sangallo a taglio laser guardate la Daniele che ci aveva fatto ho il gombo come si dice ho il gombo però tu ti vieni sotto qua sotto e col coso metti no là in piedi è vero io facevo no facevo parte della seneggiatura taglio laser puro cotone è delicatissimo potete anche qui andare a una cerimonia ed è incredibile sempre cioè che rapportato a metro è 2,95 euro è 2,95 euro è vero o no? sì 2,95 euro cioè dove trovate neanche la foto trovate un tessuto ricamato cioè ricamato si può dire no ecco perché a taglio laser incredibile stupendo l'unico problema è che ne ho solo 8-10 metri vado via questi si chiamano regali di finestra dai dai ecco eccolo qua vieni vieni è talmente raro trovarlo è rarissimo il tessuto così solo solo sulle mesi in alta moda trovi cose così poi questo sempre crepe siphone ha lavorato a cresce vuol dire stropicciato con un disegno con fiorellino è molto delicato è molto delicato si guardate anche la mia la trasparenza quel numero vedete più 80% vedete è un bianco ottico questo è un bianco è un imprimé il fiore non è un ricavo che non imprimé sì è vero e non è un è un imprimé questi qua sono quelli che ricavano con la tripla lavorazione sì 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 è molto particolare come lavorazione va bene inquadra bene la fantasia guardate guardate incredibile delicatissimo vero o no sì numero numero grazie numero 153 è vero 153 perfetto vado poi questa è una cosa folle questo è la proposta 154 e sembra un doppion di organza è un organza e sembra una lavorazione a doppion cioè vuol dire quasi è una tecnica particolare è una tecnica particolare molto cangiata è semi estremamente e non è trasparente come la classica organza è più coprente ha un peso un po' più importante ed è stupenda anche per fare giacchine questa qua senza fondera sì perché resti in sesto resti in sesto e questa è anche stupenda per fare giacchine oppure spolverini questo per fare un spolverino è incredibile date un valore a qualsiasi capo che avete sotto favoloso favoloso perché vedo non vedo e poi anche questo lucidino che ha questo tessuto è favoloso ti piace un piacere dimmene no 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 500 euro non te le do ah un piacere ti ringrazio per il pensiero ma no no non sono così materiale grazie allora guardate che effetto che fa se fosse uno spolverino no è stupendo da una cioè questo vedo non vedo è incredibile vedo grazie 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 per i 500 euro c'era quella la prossima volta possiamo che non ti dirò di no mi fate un po' di spazio che ho po' poi l'altra organza incredibile incredibile questa è una lavorazione particolare che non so neanche io definirla come perché è talmente favolosa è lucida è satinata è è è ecco ha fatto il super adesso guardate non so se si vede si vede questo effetto satinato quasi no lucido satinato incredibile anche altro capo per fare se avete un un completo nero o giacca gonna una camicia un pantalone qualsiasi colore specialmente nero provate a immaginarvi no con uno spolverino così sopra è vero no è vero grazie è stupendo altro problema qua pochi metri saranno stupendo sempre un effetto diciamo del computer da cinema questo è stupendo questo effetto satinato è veramente incredibile elegantissimo vero e sempre quanto che dici poco il prezzo oggi 5 90 di 2 metri ma anche a fare così perché se ci guardi in Inghilterra bisogna sempre fare esattamente così o anche così non c'è del palco verso di noi mi raccomando non lo sapevo a Londra io sono stato io sono stato in via a Londra ma a Londra ma mai ma mai a Londra poi 159 questo è un jersey dopo altri jersey però intanto ha una cosa no ha un difettino e non lo presento ha un puntino non mi piace e ho parte il rotolo nuovo e stampa dici no si vede non si vede si vede però no dai questo è bella diretta ma guarda che bisogna un po' più essere noi ve lo presentiamo tanto per i soldi che lo presentiamo noi lo presentiamo potete fare anche modelli fermo fermo perché il disegno cambia tantissimo no no eccolo qua vedete il disegno è perfetto gli è sfuggito sulla stampa un puntinetto un puntinetto però è nuovo mai presentato va bene quindi lo presentiamo lo stesso se qualcuno lo vuole apposta 159 poi vediamo come va bene ma potete fare anche a 2R90 anche dei modelli vero o no vince ad usare la carta avete un jersey così è stupendo ho tutte le qualità più belle del mondo guardate guardate che l'unica cosa appunto questo puntino ogni tanto il taglio va diretto succede anche nelle migliori famiglie poi cosa è successo l'altra settimana ho presentato un organza con questa fantasia e non tutti i clienti li abbiamo accontentati perché era stata richiestissima abbiamo trovato mentre facevo questo invece questo crepe si fa la stessa fantasia che ho presentato l'organza ci sono pochi metri perché per chi è innamorato di questo disegno di questa fantasia scusate no è la stessa dell'organza che di chi dell'altra volta che purtroppo non ho accontentato tutti va bene ok però le offro sempre perché non sarebbe il suo prezzo sempre di 2 metri a 5,90 approfittatene poi ho due articoli che mi erano sfuggiti e che li ho ritrovati questo è uno questo è uno però posso mi fai vedere un po' il disegno un po' più aperto perché vai in degradé no? sì eccolo qua guardate 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 non è questo è è una folia questa è un'opera d'arte questa è un'opera d'arte sì ma puoi farla come vuoi cioè non ha importanza guardate che guardate questo è il genio italiano questo l'ho acquistato a Como si vede guardate potete fare anche una tenda in casa è vero o no? un arrendamento moderno una ragazza che dice voglio un arrendamento solo io vero? stupendo poi poi ho altro tessuto che era andato è stato richiestissimo ma era andato perso nei nostri meandri di tutti i nostri magazzini ho ritrovato questa fantasia per chi ancora me la ricercava era 157 guardate ecco quindi è stata una una delle più richieste ieri è stata erroneamente messa su un magazzino sbagliato invece cercando una cosa ho trovato questa va bene a volte capita insomma non licenzo nessuno per questi errori va bene va bene dai 157 è una lavorazione a capardina no mi scappa il nome daniela miseria che no no non è viscosa è la lavorazione in tuille grande in tuille porca in tuille e anche io sarà la fame sarà la sete sarà il sonno sarà il sonno solitamente tutto ieri ho bisogno di dormire chissà che non c'è l'ora che arriva oggi per buttarmi dormire mezz'ora in più non ci sono non ci sono l'impia di oggi si dorme va bene vado per chi appunto è rimasto senza abbiamo detto che era esaurito dico scusa era stata messa su un altro noi diciamo un buco no delle scafalature invece andava su un altro e erroneamente abbiamo detto a tanti clienti esaurita invece non è vero quindi se vi piace questa fantasia ecco ah sempre ok vado poi questo è nuovo è la proposta numero 158 ola sempre un crepe sifone una fantasia multietnica si può dire così strana ci può fare in mille no no sapete questa potete usarla in tutti i modi di orizzontale verticale questa sa solo al vostro genio creativo di fare un capo unico voi sapete la nostra mission perché facciamo questi pezzi di folio è proprio per incrementare e incrementare le scuole di taglio e cucito e le sartorie va bene è incredibile vero o no è etnica ma allo stesso tempo elegante vero vado la proposta numero 160 questa è la bella proposta quando siamo andati in televisione anche questa era stata erroneamente archiviata sui nostri magazzini ce la siamo che miseria una bellezza così allora la proposta 160 guardate questo è un rasetto sempre è un twill rasetto di poliestere vi dico però sono quei poliestere italiani che non sono asiatici e non sanno di niente non sanno né di petrolio è bellissimo richiamo lo stile di un famoso stilista lo stile mi sto ingarbugliando con la mia lingua però guardate che moltitudine di colori per fare qualsiasi capo anche come complemento a un pantalone nera a qualsiasi tinta oppure a una gonna a qualsiasi capo va bene anche anche un bellissimo spolverino è vero o no un spolverino questo è fotonico andate sì veramente a una cerimonia e vi dicono wow bellissimo direttamente dalle sfilate vi dicono bello vero bellissimo il numero io questi numero lì stanotte non esiste mettendo 860 poi altra altra novità che altra novità questa è la proposta numero 162 questo deve essere indiscosa se non erro guardate questo animale sapete intanto guardate che morbidezza per fare pantaloni gonne qualsiasi capo magliettine sapete che l'autunno sarà un'esplosione di animalier sapete ecco potrebbe già essere un'anteprima questa qua della moda autunnale bello credibile cioè non è la classica ricretta stampata è proprio un bellissimo tessuto questo no 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 sempre sapete che ho purtroppo l'abitudine di acquistare sulle su delle mesone mi piacciono cose belle poi la proposta 161 questo rasetto di microfilo poliestere no guardate che amore che fiore è che il tuo fiore l'ibisco orchidea nera orchidea nera qua così porca miseria mia moglie è anche botanica oggi andiamo a no io vado al santo io ti porto l'orto botanico di Padova bene a parte quel cagnolino no con la posti bello orchidea guardate ragazzi guardate il negativo il negativo è nero pieno bello il dietro è nero pieno vado dai via via dai 161 161 incredibile poi questa cos'è direbbe il mio nipottino come dire che bello che bello che bello proposta numero 163 guardate ci sono parole non ci sono parole eh non ci sono parole per fare qualsiasi capo eh bellissimo questa maglina o questa organzia questo è un tool d'abbigliamento non tool per fare da carnevale ecco proprio per fare camicette o qualsiasi capo è strong no sì voi qui avete un pantalone una gonna nera un bel pantalone con la maglietta così la red cap di venesia il carpet no no le carpe le carpe no 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 e mi raccomando che le pesca le liberi ecco va bene si vede si vede il numero si vede tutto come se non ci sono eh eccezionale elegantissime eccezionale elegantissime eccezionale sempre minimo due metri per 5,90 euro va bene poi oh adesso andiamo su una serie di 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 perché è giusto che anche inserisca qualche tintonita la posa 164 guardate questo verde smeraldo eh eccolo qua questo è quanto vuole cosa? Daniela senti il signore che c'è ah no è solito bellissimo eh questo verde smeraldo incredibile io io mi farei tutto un un cioè proprio tutto il set completo questo è veramente tutto pantaloni casacca spolverino questo è è vero con la con la scarpa giusta questo è stupendo e poi sapete che vi da proprio vi da eh sembrate un diamante veramente voi sembrate veramente questo smeraldo vero importante vi da proprio questa eleganza questa eleganza questa classe bene poi il 165 questo un po' biola ecco questo invece vedete ecco vedete la differenza vedete la la trasparenza ah la trasparenza invece questa un po' più è meno coprente però bellissimo lo fate magari tutto pieno svorazzante ricco ricco di 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 tessuto ed è bellissimo anche questo molto raffinato è molto raffinato no no ce ne ho tre cose ma belle tre cose giuste ma belle poi un bianco ghiaccio questo qua è un bianco ghiaccio non guardate lì inizio la inizio pezza quindi il bello dire perché l'ho scartato prima quindi però non me era corto lì se no non lo 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 questo questo un bianco sempre no verde bellissimo si si stira qua non guardate inizio pezza che dicete no no c'è una rigina ma non una riga è solo il arrotolato fino a mano lì inizio pezza va bene non ve lo diamo garantito ve lo diamo va bene ok la proposta numero cento e sessanta sei cento sessanta sei vado via poi anche questo sono innamoratissimo questo jersey infatti c'è tanto jersey vedete collaborazione a devore cioè che si vede è vero si vede la la vedi anche nella trasparenza con il mio numero è facile da inquadrare dal vivo eccezionale allora guarda la mia mano scusa veramente è molto elegante questo tessuto molto 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 elegante anche se in microfibra però ripeto sono quelle in microfibra lavorate in Italia che non sono da niente non sono da niente e sono portabilissime morbidissime cascante va bene la proposta 167 adesso novità che Federico non lo sa non lo sa novità che Federico non lo sa questa è una buca adesso passiamo il tiro passiamo il tiro 5,90 5 e 90 da qui dal dal 168 fino poi adesso vi dico no intanto 3 metri per 5,90 3 metri per 5,90 3 metri per 5,90 va bene questo proprio per aiutare incentivare le scuole di taglio e cucito e le sartorie questo è un microfibra un poliestere però era è bellissimo io vi dico potete usarlo sia come fodera su capi importanti questa era era di una misura importante e lo usavano come fodera sui cappottini sui spolverini e però potete fare anche sapete cosa anche come modello per usare per fare un modello prototipi bello 5,90 di 3 metri 3 metri 3 metri ieri con la Sabrina per fare la Sabrina per calcolare i 3 metri 4 metri il tessuto intorno ma è facile va bene qui vi taglio minimo 3 metri sempre per 5,90 va bene lo usate anche come fodera poi sempre a 3 sempre di 5,90 per 3 metri tutta questa serie fino a qua fino a qua fino a qua vi faccio vedere colori compreso guardate adesso vi faccio veloce la proposta numero 170 potete fare sia come fodera che anche qui anche una camicetta e sapete cos'è anche questa qua è anche elastica quindi calcolate cosa costa la fodera se poi è anche elastica e considerate con 5,90 neanche 2 euro al metro neanche 2 euro al metro vi do una cosa super e anche di qualità bellissima bellissima è vero o no è vero o no bellissimo potete è vero fare come dici prototipi sì sì prototipi pre modelli pre modelli bellissimo oppure fate fodere a Google ho la 170 guardate scusami la 170 la 170 no cos'è che no la 169 sì ecco abbiamo invertito però guardate che rosso guardate che rosso arrivo wow che bei bolli è bello bellissimo ripeto l'ho acquistato su una grande mezzo ho il nero qui però ne ho pochi metri qui guardate che raffinatezza che raffinatezza il nero perdi perdi un attimo guardami guardami è vero o no si vede questo gioco questa fantasia esaccar questo è esaccar cioè tu trovi una fodera che non è stampata esaccar vuol dire che è lavorata guardate il negativo ecco è lavorata questa qua boh non è e in più guardate questa è sempre follia questa penso che sia inviscosa ecco sì ripeto ieri sono andato a fondo sui magazzini e trovando cercando queste cose ho trovato altre cose che erano binate lì per sbaglio incredibile questa è emozionante vero o no questa è emozionante questa è essere misto misto di scusa penso che sia mi sembra esaccar non è non è stampata vedete il dito rovescio cioè è questo è rovescio sì tiralo su un po' il rovescio eccolo qua guardate 5,90 di 3 metri taglio un minimo 3 metri è geniale è geniale no è terribile al dritto abbia due bolli diversi e non esce invece sono tutti bolli uguali è geniale è la questa è la tecnica per fare la seta certo cioè queste le fanno solo le setterie a como queste cose qua è sempre 3 metri per 5 euro bianco ghiaccio si può dire guardate guardate sempre elastico vedete vedete sempre elastico lo vedi sempre elastico e guardate c'è questo contrasto no di 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 cioè io non ho io non ho parole vero vediamo qui per accontentarvi approfittate non lo troverete mai più non lo troverete anche perché vi dico una cosa adesso perché no facciamo così queste offerte le facciamo usare fino a fine agosto va bene fino a fine agosto perché è giusto o le ho acquistate se no poi sono ultra sotto costo forse ho sbagliato però mantengo il prezzo fino a fine agosto va bene va bene fino a altro tessuto per fare prototipi questo anche questo è sempre 3 metri 5,90 e la proposta numero 174 non ha nessun difetto ha delle scritte guardate potete anche fare una camicetta diretta diciamo no va bene mettiamo delle scritte così la guarda si no no dai è multifaction basta è multifaction è multifaction ho visto ho visto ho visto è multifaction altro altro sempre 3 metri a 5,90 guardate viscosa questo è guardate è una pura viscosa mamma mi vai non guarda sì il rotolo è stato messo in piedi per quello si è struppicciato però stirandolo si viene abbiamo sbagliato in magazinarlo in piedi però è una pura viscosa guardate che punto che stupenda pantaloni anche pura viscosa indiscosa 3 metri per il 5,90 ho questa variante qui col grigio oppure con cosa è tinta è ottani o Daniela sì ottani il classico ottani il classico notani viscosa 3 metri per il 5,90 scusa ola inquadra inquadra bene il colore per piacere guardate guardate scusa scusa non è qua arriva arriva 5,90 poi altra cosa e la chiudo proprio per fare prototipi perché no tanti clienti ci chiedono non è niente da fare da cose mi supero mi supero ancora adesso cerco di superarmi 4 metri per 5,90 ma cosa ma c'è lo dovremmo andare a casa allora cucinano 4 metri per 5,90 io lo dico vai vabbè te è contento solo che io ti questa è così dai 177 177 sapete no qui veramente ci rimetto un cuore un polmone come si dice un polmone no mi sono accorto questa era di una grandissima maison non ho capito cosa facevano intanto in qua non è la batteria no no guarda vedi anche così per fare per fare il prototipo è una qualità incredibile no dico la verità perché non era io volevo vendere a 5,90 al metro questa qua questi erano dai tessuti da 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 settembre da settembre mi sono accorto e lo dico che povero se uno fa dopo la vando però a me non mi piaceva imprimere imprimere vedi no quasi in aspetto scriventi che però non era nante oppure o gli mancava qualcosa però voi guardate un po per fare un prototipo una cliente no ma anche parti di arbi si a 5 di 4 metri 5,90 approfittate ne ho qua va bene lo avevo pistato magari ha fatto apposta no vai capire te i stilisti cosa fanno no però per me che sono dell'età del medioevo no no perché uno che va via con i pantaloni a palazzo è solo uno all'età medioevo sai chi è che era dell'età del medioevo che si chiamava Francesco e che vendeva tessuti chi era il Lubello il primo che ha importato il nome Francesco in Italia poi era San Francesco da Sisi il primo che ha portato il nome è Francesco in Italia perché San Francesco da Sisi perché Francesco vuol dire che era francese vuol dire in Francia perché l'avevo mandato in Francia ok anche oggi però dico sempre che è l'ultima però ogni tanto vado l'altra questa no questa la devo presentare quindi di sicuro fino a fine di agosto non so cosa farò potrebbe essere che facciamo anche un stand by forse li facciamo anche io sarò in ferie io avrò una settimana di ferie anche perché abbiamo le ferie ancora di Federico e di Sabrina quindi vi dico già potrebbe essere che facciamo anche una settimana di stand by poi oppure vedremo come inventarci qualcosa quindi però dopo vi proviamo a settembre tomo novembre ragazzi fa mille scintille fanno cose vogliamo diventare come si dice nel mondo nel mondo the best in the world the best in the world perché lui Federico è la fissa della California lui c'è stato ci sono stato il Mustang con lo skate poi io mi sono tanto tutti e adesso vuole commercializzare in America in America e abbiamo trovato forse la quadra quindi proporremo cose particolari certo che però posso dire una cosa fa sorridere che cosa fa sorridere che abbiamo momenti e salutiamo la signora Aurora difficoltà magari a mandare in Svizzera sì incredibile è un paese extra è un paese extra in Roma che ci hanno dei costi assurdi e qui in America ci costa meno dobbiamo trovare anche lì e adesso do una roba ragazzi ciao Consuelo ciao Alba della Germania ciao Consuelo della Spagna ciao amiche carissime ciao Silvi della Francia ciao ragazzi va bene vi dico grazie vi dico anche siete anche grandi generosi perché mi hanno supportato un folle come me supportate quindi c'è anche chi si diverte a guardarti non sono solo critiche ma c'è anche di complimenti l'uomo con i pantaloni a palazzo va bene vi voglio bene vi voglio veramente adesso parto i scherzi scusate adesso adesso l'attenzione è calata ho finito Daniele vieni qua amore dai vieni qua Sabina vieni qua dai prima dalle ferie vieni qua dai vieni qua dai per piacere dai dai mola tutto mola mola i tessuti dai dai in ferie io quando ci vado in ferie io quando ci vado in ferie tu sei pensionata ma così sarebbe essere in ferie dove vai in ferie dove vai dove vai in ferie no ma le seconde ferie dove le fai a casa a casa a capri a capri a capri va bene non si possono fare i gesti no prima ho fatto così sbagliato grazie sabina signori l'artefice della pazienza e della gentilezza del nostro negozio invece questo è l'artefice dei miei scleri ci vuole ragazzi ci vuole un altro un altro paolo mi voglio bene santa giornata che sarebbe rica ma soprattutto santa domenica ciao grazie ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.